Buongiorno a tutti, sono Dora. Oggi vi presenterò un video adatto a tutti di postura, equilibrio e piede. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social e di iscrivervi al canale di YouTube di fitness in casa. Grazie a tutti e buon allenamento. Allora, cominciamo con una posizione parallela. Allora, vado dall'ombra della schiena, sento l'appoggio dei piedi e cerco di allineare i talloni anni frudi. L'addome sempre in contatto, comincio a fare un piccolo movimento, prima verso destra e poi verso sinistra. Prima verso destra, poi verso sinistra. Cerco di crescere con la schiena, di mantenere il collo lungo e le spade basse. Faccio ancora due, faccio ancora uno. Ok, ora vado a stabilizzare la posizione. E da qui, mantenendo sempre il parallelo, la schiena sempre lunga, eseguo dei piccoli movimenti in avanti e indietro. Vado avanti e vado dietro. Vado avanti e vado dietro. Come se spostassimo il peso, prima verso i talloni e poi verso gli avanti. Cercando di tenere sempre l'addome indietro, la schiena è ben lunga, le spalle basse con un rilassato. Ne eseguo ancora due completi. L'ultimo, vado dietro. Bene, e vado avanti. Ora stabilizzo la posizione per accedere e comincio a staccare il tallone. Destra, spingo sulle cinque dita. E torno giù e cambio a sinistra. E torno. Vado ad alternare. Destra, torno e sinistra. Faccio questo movimento, settando bene la spinta, quindi sulle cinque dita, del piede. Faccio ancora quattro. Respira. Ancora tre. Vado due. Spingo. Vado uno. Spingo. Adesso da qua. Prova a sollevare leggermente i talloni. Solleva. E scendo. Ancora solleva. E scendo. Solleva gradualmente. E scendo gradualmente. Sento sempre questa spinta verso l'alto quando solleviamo i piedi. E verso il basso. Cerco di mantenere sempre la dama in dentro. La schiena lunga. Le spalle rilassate. Collo morbido. Faccio ancora due. Solleva. E scendi. Lascia le spalle morbide per ora. Solleva. E scendi. Sempre il stesso lavoro. Ne faccio quattro mettendo anche le insolite braccia. Quindi vado su. Solleva. E scendi. E scendi. E scendi. Prova di rimanere un pochino di più. Solleva. Stato. Solleva. E scendi. E scendi. Fai questi cerchietti belli completi. Ok. L'ultimo. Cambio il verso dei cerchi. Verso l'interno. Senti bene. Senti bene la sfitta delle cinque dita. E poi torno al palone. Faccio gli ultimi due. Eseguo l'ultimo. Ok. Cambio. Sinistra. L'interno e l'esterno. Cresci sempre il maschino nelle vostre spalle. Con lungo. Faccio ancora due. Senti il bacino fermo. Adesso cambia. Vado. Gli ultimi due. Senti bene la circonduzione della camiglia. Ok. E rilassa. Adesso da qua. Partiamo sempre da questa posizione. Quindi parallelo. Ok. Come i palloni allineali. Ai glutei. Porto il braccio lateralmente. Ok. Spalle basso e il corno lungo. E comincio semplicemente a fare questo lavoro. Un cambio di peso verso la mia cava sinistra. Come se volessi staccare il piedino destro. E torno. Sempre verso il lato sinistro. E torno. E torno. Senti il piede morbido. Stacco. Torno. Ancora. Stacca. E torno. Fai gli ultimi due. E torno. E torno. Faccio l'ultimo. Stacco. Torno. Bene. Adesso vado a destra. Prova a staccare. E ritorno. E torno. Senti bene l'appoggio sul piede destro. Lascia il sinistro morbido. Torno. Le spalle più possibili rilassate. E torno. Fanno ancora tre. E torno. Fanno ancora due. E torno. L'ultimo. Vado. Ah. E torno. Bene. Lascia. Scioglio un attimino. Le spalle. Mentre scioglio la parte sulle delle spalle. Quindi piego un pochino le ginocchia. Porto le spalle in avanti. E stendo le gambe. Porto le spalle dietro. Piego le ginocchia. Spalle. Cambio. Piego le ginocchia. Sento il lavoro delle spalle. E torno. Rimane sempre lungo e rilassato. Stanno. Di nuovo. Ginocchia. Spalle. E rilassa. Bene. Adesso da qua. Da questa posizione. Provo a fare semplicemente solo dei cambi di peso. In che maniera? Come abbiamo fatto prima. Mi spado spostando in verso la parte. Quindi sinistra. Mi sposto verso la parte sinistra. Ma piego adesso il ginocchio. Lascio. E il piede destro morbido. E ritorno di nuovo nel paragola. Sempre a sinistra. Le faccio solo altri tre. Quindi in un piede ginocchietto sinistro. Vado a staccare il piede destro. Ritorno. Ritorno nel parallelo. Ancora due. La schiena sempre lunga. L'addome contratto. E stacco. E torno. Fai l'ultimo. Piega. Sposta il peso. Lascia le braccia morbide. Stacca. E torno. Tutto a destra. Riparto dalla linea centrale. Collo lungo le spalle del passale. E di nuovo. Stringi bene qua l'addome. I glutei sono belli contratti. A destra. Piega il ginocchietto. Libero il piede sinistro. Ritorno nel parallelo. Ancora piega il ginocchio destro. Libero il piede sinistro. Il piede morbido. Ritorno nel parallelo. Non faccio ancora due. Piega. Sento l'appoggio. Tutto a destra. Stacco. Lascia le braccia morbide. Torno. Le spalle sono sempre rilassate. Un po' lungo. L'ultimo. Piega. Sposta. E torna. Bene. E sciogli un attimino le gambe. Fai questo piccolo movimento. Rilassando di nuovo. Parlo alle spalle. Bene. Fatto sempre da questo parallelo. Bella la schiena lunga. Una linea dalla lucidire. Le scale. E il sale. Stringo. L'addome qui. Bello contratto. Le spalle sono rilassate. Le braccia. Le lunghe i fianchi. Cominci a staccare il perno di destra. Sentire un attimo in equilibrio sulla tua gamba sinistra. Sinistra. E sale. E sale. Cinacchio. E scende. Fanno ancora tre. Devo. Stacca. E scende. Andrò due. Stacca. E scende. Faccio l'ultimo. Stacca. E scende. Ora incantare le braccia. Da qua. Braccia parallele. Siamo al tallone. Pazzo. E scendo. Ancora tre. E scende. Morbide. Mani. All'altezza delle spalle. E scende. Ancora due. Ado su. E scendo. Faccio l'ultimo. Stacca. E scendo. Mano a mano. Ora da qua. Di nuovo. Vado a staccare il perno di destra. Senti forte il tuo piede sinistra. La tua gama sinistra. Mantieni sempre la giusta postura. Quindi l'addome è bene dentro. La schia dritta. E stacco. Ok. Piccoli movimenti del ginocchio verso l'alto. 4, 3, 2, 1, scendi. Piega. Rilassa un attimino le gambe. Prova a farne ancora 4. Come braccia al sacco. Guarda le forme prima. Quindi di nuovo. Allungo la schiena. Rilassa le spalle. E su. Braccia. Piccolo. 4, 3, 2, 1. E rilassa. Ok. Sciogli. Lascia un attimino andare il bacino. Lascia di fianco sinistro e destro. Sinistro e destro. Rilassa. E le spalle. Fai questa piccola circonduzione. Vadovi a rilassare un attimino l'attivazione qui. Tre anche. Ok. Qua. Piego. Mantengo sempre la colonna ben dritta. Piccoli cerchietti. Alla. Rilassando. Prima la parte sinistra e destra. Ok. Torno al centro. E dall'altra parte. Sciogli. Rilassa. E piega. Stendi. E riforma il tuo parallelo. La nostra posizione base. Per tenere sempre questa schiena bella neutra. Dritta. Ok. Le spalle rilassate. Calo lungo. La donna è sempre contratto. E quindi cresco con il busto. Adesso. Tutta sinistra. Forte l'appoggio sulla gamba destra. E rinno. Stacca il calone destro. Piego giro. Pieto. Armino fin dove riesco. Mi ha dato che sento bene l'appoggio. E non crollo sul fianco il posto. Ok. E scendi. Qua. Su. E scendi. Ancora su. E scendi. Ancora su. E scendo. Ora le braccia. Bado su. E scendi. Ancora su. E scendi. Ultimi due. Su. E scendi. Faccio l'ultimo. Su. E scendi. Ora eseguo dei piccoli impulsi con il ginocchietto. Guarda verso il petto. E le braccia che si fermano paralleli al suolo. Quindi vado su. Le braccia piccole. Qua. Tre. Due. Uno. Prova a mantenere il glibbio. Mantieni. Quattro. Tre. Due. Mantengo uno. E scendo. E rilassa. Bene. Lasso l'attimino di nuovo. I fianchi. Prima a destra. E poi a sinistra. Ora. Cosa faccio? Lavoro sempre con gli equilibri. Soltanto guarda un po' di più le mie gambe. Ok. Da questa posizione. In apertura. Sposso il peso. Verso la mia parte sinistra. E vado a staccare il piedino destro. E ritorno alla posizione. Quindi. Sposto. Stacco il piedino destro. E torno nella posizione. Le gambe sono tutte due pesi. Ne faccio ancora tre. Stacco. Stacco e torno. Ancora due. Stacco e torno. Ancora uno. Stacco e torno. Ora ci riempio anche le braccia. Quindi. Stacco e torno. Ancora tre. Mano mano risposto verso sinistra. Stacco e torno. Cresci sempre con la schiena. Ancora due. Sai, sai, sai. Stacco e torno. Qua è l'ultimo. Trasferisco il peso su. E torno. Adesso. Vai in un po' nella tua parte sinistra. Ok. Stacco al piedino destro. Prova un attimino a mantenere questa posizione. E le braccia sono quattro. Tre. Due. Uno. E scendo. Ok. Tutto dalla parte opposta. Ovviamente se ho collato a specchio. Farò ovviamente dalla parte opposta. Quindi da qua, di nuovo. Lascio sempre queste spalle morbide. Comincio a trasferire il peso sull'altra gamba. In mio caso, quindi destra. Stacca. E ritorno. In assi. Trasferisco. Stacco. E ritorno. Fai ancora due. Stacca. E torna. Faccio l'ultimo. Stacco. E torno. Con le braccia. E stacca. E torna. Accompagniamo il movimento. Sia quando vai. Che quando ritorni. Ancora due. Precisa prima la schiena e lì lo stomaco. Uah. Faccio l'ultimo. E. Bene. Torna. Adesso. Mi sposto di nuovo a testa. Ok. Stacco il penino. Senta l'antina questa posizione. Senti bene questa posizione. Ora le braccia. Quattro. Tre. Scavo le persone sul basso. Due. Bado. Uno. E. E giù. Ok. Rilassa di nuovo le anche. Ok. Vai dal paradano. Allunga. Alzo. La tua parte. Destra. Qua. Allunga ben. Fianco. Opposto. Forma questa mezza corona con il braccio. Rilassa. Quindi tutta questa fascia muscolare. E. Dall'altra parte. Rilasso. Cambia. Allunga lunga 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 lunga. E torna di nuovo. Adesso vado a fare dei piccoli squat. Quindi cerco di tenere sempre sotto controllo ovviamente la mia schiena, la mia postura. L'addome sempre qui contratto. E vado a utilizzare un po' di più i muscoli delle gambe. Ok. Quindi. Da questa posizione. Paraglielo con i talloni. Sotto i miei glutei. Cominci a fare dei piccoli movimenti. Come se mi volessi sedere. Appoggiare su uno schiavello. Porta le mani. All'altezza qui dello sterno. E semplice faccio questo. Prendo l'aria lunga perna schiena. E scendo un pochino giù. Come se mi volessi sedere. E ritorno di nuovo su. E apro le braccia. Con i talloni delle mani di volte verso la parete opposta. Ancora qua. Scendo. Sento bene l'appoggio dei piedi. Lavo sulla giusta. Lino bene il tratto cervicale verso la schiena. E salvo. Ancora. Respira. Prendo aria. Chiami sempre le spalle dietro. Lo stelo in apertura della colonna. Dritta. Ancora va. Respira. Prendo aria. E butto fuori aria. Prendo aria. E butto fuori aria. Ne vado a fare ancora se. Ispira. Prova a scendere un po' di più. Senti bene l'appoggio sul piede. E stendi. Ancora. Respira. E stendi. Facciamo ancora un po'. Inspiro. Va a scendere un pochino di più. E spira. Prendo aria. E butto fuori aria. L'ultimo. L'ultimo. In. Inspira. Scendo un po' di più. Butto fuori aria. Fai l'ultimo. Prendi aria. E butto fuori aria. Stai. Adesso senza salire e scendere o scendere a salire, provo a fare dei piccoli molleggi. Mantenendo sempre la mia posizione di squat. Quindi. Devo. Respira. Parti sempre dalla colonna dritta. L'alto con il svezzato. I gluti che ti sostengono nella posizione. Appoggia bene i piedi a terra. Quindi senti maggiormente l'appoggio non tanto sull'avampiede, ma tanto verso il talone. Respira. Prendi aria. Prespo con la schiena. E mi prepara. E butto fuori aria. Adesso faccio dei piccoli molleggi. Quindi. Vado otto. Sette. Ricorda di sempre di inspirare e spirare. Prendi aria e butto fuori aria. Sotto con tolto sempre la schiena. Le spalle dietro. Cono lungo. L'addome. Sempre un tratto. Stringi questi gluti. Senti anche il lavoro. Dei gluti. E qua. Fai ancora quattro. Ancora tre. Ancora due. Scendi un pochino di più. Ancora uno. Ok. Adesso da qua. Se sono io e tu vado a staccare anche il tallone. Un tallone per l'altro. Quindi. Scendosa. Col tallone. Destro. E stop. Tallone sinistro. E stop. Alternate. Destra. E sinistra. Piccoli. Modo G. Qua. Sentite la loro mano maggiore delle gambe. Ancora un pochino. Otto. Scendo in il tallone. Sette. Scendo in il tallone. Come modo. Sei. Scendo in il tallone. E cinque. E giù. E quattro. E giù. E tre. E giù. E due. Appoggia bene il piede. Che torna a terra. Fare l'ultimo incontro. E giù. Spingi bene il suo cinque dita. L'ultimo. Due. Scendo in giù. L'ultimo. Giù. Adesso. L'ultimo. E sempre in questa posizione. L'ultimo sforzo. Prova a sentire l'appoggio del piede. E per tutto il lavoro che hai creato prima. Per incozzare l'appoggio. Piede. Capite. Sembra sempre la giusta postura. Da qua. Porta in uscita la tua gamba. Tuo piedino destro. Apro. E chiudo. Respira. Prendo aria. Butto fuori. Prendo aria. Butta fuori. Prendi aria. E butta fuori. Resisti. Prendi aria. Butta fuori. Ancora quattro. Torno in posizione. Ancora tre. Torno in posizione. Ancora due. Torno in posizione. Ok. Ancora uno. Torno in posizione. L'ultimissimo. Quattro. Mantieni in posizione. Quattro. Tre. Due. Uno. Torno. Ma ce la facciamo. Gli ultimi. Dall'altra parte. Quindi resisti. Galla. Abbolla. Schiena. Scendi un pochino di più. Apri. E torna. Apri. Torna. Faccio ancora sei. E torno. Cinque. E torno. Scendi più giù. Quattro. E torno. Tre. E torno. Tre. Due. Torno. L'ultimo. Uno. E. Ci arrivi. Ci arrivi. Prima di qui. Le gambe. In appoggio. Quattro. E adesso da qua. Ancora. Senti questa posizione. Senti bene l'appoggio. Sul tuo piede. Destro. Mantieni quattro. Tre. Due. Uno. Piega. Lascia. Bene. Fai questa piccola camminata. E. Rilassa. Va bene. Respira. Ok. Facciamo gli ultimissimi. Gli ultimi squat. Ok. Gli ultimi. Un pochino più veloci. Mantendo sempre i nostri volleggi. E devi sempre l'appoggio serrato. I piedi. Arta per prima. Un pochino più veloci. E un pochino più verso il basso. Quindi. Di nuovo. Parto. Però. Vado a vedere un pochino più le gambe. Quindi lo faccio con le gambe. Leggermente più ampio. E spettacchina. Senti. E spettacchina. E spettacchina. E spettacchina. E spettacchina. Vado a vedere un pochino più veloci. Scendi un po' di più. Verso il basso. Vado a 8. E stai. Un pochino alla schiena. Una taglia. Ancora 7. E stai. E sei. E stai. E 5. E stai. E 4. Appoggia un bel indietro. E 3. Stai. E 2. Stop. 1. Stop. Adesso passo per un po' altro nulleggi. Qua. 4. 3. 2. 1. Stai col tavolo in destra. 4. Scendi giù. Stai col tavolo in sinistra. Scendi giù. Scendi giù. L'ultimo a sinistra. Scendi. Mi sposto. Mezzo il ginocchietto. Sinistro. Senti la posizione. Braccia. Ora non è stata il primo. Solo 2. 2. 1. Scendi. Mi sposto. Senti bene l'appoggio. Su piede destro. E stacca. 2. 1. Scendi. E relax. Sciogli. Bene. Ok. Adesso. Allunga la schiena. Respira. Lascia. Di nuovo. Da qua. Stratola. Scendi la mano. Lascia andare la testa a pezzoloni. Morbida la testa. Lascia andare la testa. in basso. Basso. Respira. Bene. Di nuovo. Prendi aria. Appoggia bene. Il peso sui talloni. Lascia la testa morbida. Le spalle rilassate. E lentamente. Tenendo sempre le ginocchia. Le spalle rilassate. E vengo su. Quindi sentiamo i partiti. Bracchettone. Nella posizione. Iniziale. Lascia il collo. Le spalle. Relax. Bene. Spero che il video vi sia piaciuto. Ringrazio tutti. Il nostro video. E' terminato. Se volete. Potete mettere. Un commento. E vi ricordo. Di iscrivervi. Al nostro canale. YouTube. In casa. E ricordate. Il segreto. Per andare avanti. E' quello di iniziare. Grazie.